restrizioni sul natale regione in disaccordo con le scelte del governo coronavirus cala la percentuale dei tamponi positivi galleria nazionale delle marche i progetti del nuovo direttore gallo alleanza fra avl e di olab nello sport al tempo del covid benvenuti al nostro telegiornale di giovedì 3 dicembre questa apertura è dedicata alle manovre in corso del governo in tema di decreti qualche giorno fa infatti dalla regione arrivavano ottimistiche previsioni che questo giovedì sera quindi questa sera si potesse ratificare il ritorno delle marche a zona gialla previsioni che però sono state al momento disattese aspettando la conferenza stampa del premier conte che ci sarà appunto questa sera è però già emerso il nuovo decreto sulle festività natalizie che bloccherà gli spostamenti fra regione fra il 21 dicembre e l'epifania e addirittura anche gli spostamenti fra comuni a natale e nella giornata di capodanno una serie di provvedimenti mal digeriti chiaramente dalla regione marche come ha fatto notare il vice presidente mirco carloni in questo suo intervento alla conferenza delle regioni abbiamo ricevuto questa notte la bozza che come è stato già detto non tiene in alcun conto le nostre posizioni ma nemmeno quelle concordate in conferenza delle regioni che mi sembravano tutte molto intelligenti e apprezzabili e questa cosa è veramente triste perché i sentimenti negativi rispetto a queste scelte stanno arrivando gli effetti li sentiamo e c'è un grande disappunto perché questo modo di fare crea un danno al nostro territorio enorme noi siamo un territorio di fatto di piccole realtà di piccoli comuni pensate che solo 15 comuni superano i 20 mila abitanti quindi la penalizzazione sulla mobilità intercomunale è davvero tanta inoltre i ricongiungimenti familiari per noi saranno un problema molto sentito perché tra i piccoli comuni il giorno di natale non ci si potrà spostare questo creerà un impatto sociale molto alto e voglio dire anche a questo punto una cosa perché siamo diventati zona arancione ingiustamente da un momento all'altro e su dati rt che già cominciavano a scendere e l'rt da noi cominciava a scendere perché comunque avevamo fatto delle ordinanze che mettevano in sicurezza già la nostra popolazione il fatto di essere diventati zona arancione non ha in alcun modo cambiato la curva che sta già stava già scendendo da prima ma ha soltanto danneggiato ingiustamente le attività economiche e quindi credo che con questa prospettiva di mancanza di dialogo e di confronto che è soltanto formale ma di fatto non c'è nulla di sostanziale quando un governatore o addirittura tutta la conferenza fanno delle proposte congiunte di fronte a questo modo di procedere io sono assolutamente concordo con chi mi ha preceduto che non è opportuno esprimere alcun parere perché è evidente che del nostro parere non interessa nessuno ed ora ci occupiamo di cronaca perché negli ultimi giorni la polizia di Fano è stata impegnata in diverse operazioni di contrasto alla violenza di genere come ci spiega il giornalista in questo prossimo servizio si chiama a codice rosso la procedura attivata dalla polizia di Fano sotto la titolarità della procura della repubblica di pesaro per contrastare la violenza di genere e gli atti persecutori in questo contesto la polizia fanese nell'ultimo periodo è arrivata a procedere con un arresto e due denunce nei confronti di tre uomini dimoranti a Fano a finire in manette un fanese che si è separato dalla moglie dopo dieci anni di vita coniugale ma che ha continuato a minacciare picchiare la donna con lesioni anche gravi e con persecuzioni anche nei tentativi di fuga dalla città un altro fanese non ha accettato la separazione coniugale del figlio e non l'ha accettata al punto tale da arrivare a incendiare l'auto del nuovo compagno dell'ex consorte un rogo ha piccato dopo un escalation di insulti e telefonate minatorie in questo caso il tribunale applicato la denuncia con divieto d'avvicinamento ai due perseguitati un'altra denuncia con divieto d'avvicinamento è arrivata nei confronti di un fanese protagonista di minacce reiterate verso la figlia minorenne e verso la madre atti repressivi ma anche preventivi come quelli che hanno visto due ammonimenti del questore per diversi casi di stalking segnalati a fano dallo stesso commissariato ed ora i consueti aggiornamenti in campo di coronavirus oggi 3 dicembre si è registrato un aumento di casi di contagio ma a fronte di molti più tamponi processati il risultato è un benaugurante calo della percentuale dei tamponi positivi che oggi è sceso al 18 per cento cioè ben 8 punti percentuali rispetto al 26 per cento di ieri andando nel dettaglio le marche hanno registrato nelle ultime 24 ore 476 casi positivi di cui 124 in provincia di pesaro urbino cifra però emersa da ben 2621 nuove diagnosi per un totale di 4137 tamponi continuano a scendere i ricoverati nelle marche ora sono 614 di cui 88 in terapia intensiva mentre i morti registrati ieri nella regione marche sono 9 parliamo ora di sanità che in questo caso si unisce alla solidarietà è il caso della campagna delle stelle di natale dell'ail che accende i riflettori sui malati di leucemia al termine di un 2020 estremamente delicato l'ail associazione italiana contro le leucemie e linfomi ha cominciato questa mattina l'ipercop di pesaro a vendere le sue tradizionali stelle di natale che dal 5 all 8 dicembre porterà in piazze e strade di tutti i comuni della provincia con uno sforzo supplettivo di vendita e consegna a domicilio per evitare assembramenti regalare una stella di natale a il significa soprattutto regalare un aiuto e un sostegno concreto alla ricerca scientifica e a tutti quei malati di leucemia divenuti ancora più fragili in un 2020 marcatamente segnato dalla pandemia noi abbiamo abbiamo protetti al massimo in questo periodo e quindi è stata una doppia fatica però in questo oltre che dall'azienda ospedaliera che ci ha supportato siamo aiutati da il che si supporta il pesaro in tante cose dalla ricerca alla protezione dei pazienti con il villaggio Aile che consente ai familiari e a chi esce dal trapianto perché il trapianto è una delle cose più delicate che facciamo di poter essere in una posizione protetta vicino all'ospedale all'assistenza domiciliare per chi non si può spostare e quindi tante opportunità che Aile ci sta dando da molto tempo e che ci ha continuato a dare anche in questo momento di grande difficoltà anche finanziaria perché la situazione attuale la conosciamo tutti adesso siamo appunto con la manifestazione delle stelle che c'è un po' tutti gli anni e speriamo che le persone si ricordino anche di Aile Pesaro perché merita effettivamente. Ecco infatti la sua presenza qua oggi sta proprio a rimarcare come questo momento natalizio possa fare un breccia diciamo anche nella sensibilità di chi può dare un contributo importante verso questa causa. Lo ha sempre fatto quindi noi ci contiamo ecco in questo ma soprattutto vogliamo appunto ricordare quanto si è fatto e quanto si continua da fare ecco in questo campo ecco abbiamo fatto delle ricerche molto interessanti i farmaci praticamente ancora non sul mercato arrivati per i pazienti per tempo quindi persone che si sono salvate anche grazie a questi aspetti ce ne abbiamo anche tuttora quindi la presenza appunto di una buona ematologia e di una buona Aile locale per tutto il territorio della provincia e fuori perché vediamo gente anche da tutta Italia e da fuori è molto importante ecco. La madre è stata recentemente diagnosticata è stata recentemente diagnosticata una leucemia acuta meloide e in brevissimo tempo dopo un consulto col professor Visani c'è stata questa chiaramente io e mio fratello come figli di una di una signora di 83 anni abbiamo cercato di rivolgerci al centro più autorevole che c'era in Italia io vivo all'estero però mi sono informato e chiaramente per una madre si fa sempre il meglio ci siamo senza alcuna agitazione indirizzati al professor Visani e alla sua equip di Pesaro per seguire una paziente che si trasferiva dalla Toscana a Pesaro per fare queste cure d'avanguardia chiaramente c'era anche tutto un problema logistico questo problema logistico è stato grazie all'intervento del professor Visani e della sezione dell'Aile di Pesaro è stato risolto mettendoci a disposizione un alloggio al villaggio Aile quindi noi siamo estremamente grati a tutta questa famiglia dell'Aile di Pesaro al professor Visani al suo vice primario Isidori al presidente Serra dell'Aile veramente siamo stati oltre tra l'altro averci potuto risolvere questo problema urgente siamo trovati proprio accolti da posso dire quasi da amici insomma un ambiente veramente molto molto siamo rimasti commossi ed ora ci spostiamo a Urbino perché da un mese esatto si è insediato in città Luigi Gallo chi è Luigi Gallo è il nuovo direttore della Galleria Nazionale delle Marche in questa intervista il direttore ci illustra i progetti del Palazzo Ducale e le mostre in programma per rilanciare la cultura urbinate dopo il blocco imposto dalla pandemia un mese complesso come complesso per tutti un mese di restrizioni dovuti a dovute all'epidemia e tuttavia stiamo lavorando all'interno del museo molto per prepararci alla riapertura quindi a breve termine ma anche con una prospettiva più lunga eh avendo come linea guida il fatto di ripensare il museo la per la collezione permanente e ehm riapriremo quindi entro il 2021 anzi apriremo per la prima volta al pubblico entro il 2021 le sale del alcune sale del secondo piano allestendovi eh la eh pittura del settecento e eh spostando la collezione volponi quindi dandogli veramente il ruolo chiave che questa collezione eh richiede eh contestualmente stiamo lavorando anche un progetto di mostra che comincerà dunque nel mese di maggio fine maggio inizio di giugno eh che sarà diciamo la mostra conclusiva di questo percorso di celebrazione di Raffaello a termini più lunghi quindi nel 22 proseguiremo il nostro lavoro di riordino della collezione permanente una collezione che merita di essere veramente ripensata nel suo rapporto con il palazzo e quindi rimettendolo al centro della visita del dei nostri avventori ai quali vorremmo raccontare di più eh delle opere che conserviamo di più sulla loro storia su sulla storia dei loro artisti e quindi vorremmo cercare di essere sempre di più un museo che comunica eh che è aperto e che eh diventi veramente un'esperienza eh sia all'interno di un più ampio discorso sulla storia dell'arte eh italiana ed europea sia proprio raccontando la storia specifica della pittura nella regione delle marche una storia che 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 diventerà un racconto e e che spero interesserà sempre di più il pubblico. Noi chiuderemo comunque il centenario con una mostra importantissima sull'arte di Raffaello e gli arazzi sa che Raffaello ha avuto questo ruolo così importante nel rinnovamento dell'arte tessile eh per il 22 stiamo operando una mostra anche questa una mostra celebrativa questa volta non su Raffaello ma sul granduga eh Federico al quale Urbino tanto deve eh che eh festeggia proprio il centenario nel 22 e organizzeremo quindi una mostra importante con prestiti eh veramente ragguardevoli eh per raccontare quel momento importantissimo che è stata Urbino capitale delle arti e la città proprio al centro eh di una riflessione che è stata in qualche modo la riflessione del rinascimento italiano. Urbino è è un sito unesco è un luogo di una bellezza pura eh veramente eh in qualche modo preservata non toccata dall'invadenza barbarica della modernità e tuttavia con alcune eh difficoltà strutturali è un luogo in cui è difficile arrivare per cui eh bisogna avere strategie che permettano a a questo centro meravigliosamente preservato di essere però poi il rapporto con il mondo quindi in qualche modo anche fare delle richieste alla regione eh per essere maggiormente meglio collegati con il resto del mondo. Oggi 3 dicembre è la giornata internazionale delle persone con disabilità. In questa giornata la presidente della commissione sanità e politiche sociali della regione Marche Elena Leonardi ha sottolineato come ci sia urgente necessità di intervenire con proposte concrete per dare il maggior sostegno possibile alle fasce più fragili della popolazione. Commissione che si è assunta all'impegno di una programmazione di interventi incisivi per superare le tante barriere ancora presenti nelle nostre società. Nuove nomine nella Lega della provincia di Pesaro Urbino. Giovanni Dall'Asta, consigliere comunale a Pesaro, è stato nominato dalla segreteria provinciale responsabile degli enti locali per la Lega. Sarà suo il compito di controllo del programma e il coordinamento dei consiglieri comunali eletti in provincia. L'incarico in questione era finora ricoperto da Giorgio Cancellieri, eletto ora consigliere regionale. Ad Alessandro Bettini è stato invece affidato l'incarico di nuovo responsabile della cultura per la Lega provinciale. Borghi digitali, la banda ultralarga tra Metauro e Cesano. È questo il titolo dell'appuntamento che si terrà domani venerdì 4 dicembre alle ore 18 su proposta da una rete di comuni della Valle del Metauro e del Cesano che intende informare i cittadini sulle novità in tema di valorizzazione delle due vallate. In questo caso si parlerà di innovazione analizzando gli investimenti sullo sviluppo della banda ultralarga. L'evento verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube del Comune di Fano e sulle pagine Facebook delle amministrazioni comunali coinvolte. Fano, Cogli al Metauro, Fermignano, Fratterosa, Monbaroccio, Mondavio, Monte Felcino, Monteporzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in campo e Sant'Ippolito. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni. Come sempre noi vi ringraziamo perché sono tante le segnalazioni che quotidianamente ci arrivano al nostro numero di cellulare 370-366-7210. Oggi vi vogliamo mostrare le foto di un nostro telespettatore che mostra come a Pantano nel parco fra via Tazzoli e via Manara da qualche mese ci sia questa staccionata divelta e abbandonata a se stessa. Attraverso Rossini TV questo telespettatore intende dunque sollecitare un ripristino decoroso a quest'area verde del quartiere. Dall'incuria dei parchi passiamo ai dissesti del manto stradale. Questa foto ci mostra questa grossa buca in via divisione d'acqui a Villa fastigi. Al di là dei sistematici allagamenti questo spettatore ci scrive come in questo tratto stradale ogni transito di mezzi pesanti in questa zona industriale provochi forti tremori che si propagano fino alle abitazioni affiancate. E allora grazie a chi ci ha mandato queste foto e chiaramente le gireremo a chi di dovere e cercheremo al più presto di risolvere queste problematiche. E ora nella prossima intervista andiamo a conoscere Annabio Marche, associazione della Confederazione Italiana Agricoltori. La presidente Sara Tomassini ci spiega i lavori in corso per creare un vero e proprio distretto del biologico dei nostri territori. Annabio è una cellula CIA che si occupa di biologico, diciamo è la cellula più requeta. Noi siamo rappresentanti delle aziende agricole e biologiche CIA in tutto il territorio regionale. La nostra iniziativa è partita il 14 maggio con una lettera di presentazione di un progetto meglio, una lettera di presentazione a collaborare a un progetto di distretto biologico che poi ha preso il nome distretto biologico terre marchigiane. Il risconto è stato diciamo quasi immediato perché nell'arco di dieci giorni il primo comune che ha dato manifestazione di interesse è stato il comune di San Lorenzo in campo. Poi piano piano comunque abbiamo avuto l'adesione di altri comuni quindi vicini quindi confinanti. Sono arrivati a 13 tutto ecco tutto una tutta un'area territoriale che è entusiasta di poter operare e appunto di essere vicina al mondo agricolo ma a tutta la comunità territoriale e rurale. Questo distretto biologico terre marchigiane opera appunto a livello territoriale lavorando però a sistema quindi coinvolgendo tutto il comparto delle filiere e più che altro puntiamo anche a coinvolgere i giovani quindi intervenire anche nelle scuole nelle menze scolastiche e creare anche degli orti all'interno delle scuole per far capire ai giovani da dove viene il cibo. I comuni che hanno aderito e hanno praticamente deliberato il protocollo d'intesa sono Pergola, Fossombrone, Fratterosa, San Costanzo, Tere Roveresche, San Lorenzo in campo, Mondavio, Cantiano, Cagli, Frontone, Serra Sant'Abbondio, Sant'Ipolito e Monteporzio. Questo protocollo non altro che un'adesione di costituire questo distretto biologico. Abbiamo già scritto una bozza di statuto per poterci appunto costituire inizialmente come associazione. Una realtà crescente quella del biologico nella nostra regione. Abbiamo tantissime aziende agricole che hanno aderito al protocollo d'intesa perché il protocollo d'intesa non è composto solamente da comuni ma abbiamo anche un centinaio di aziende agricole. Chi volesse avere ulteriori chiarimenti, informazioni in ordine al distretto biologico Tere Marchigiane saremmo ben lieti di darle anche perché io dico che non dico che il metodo biologico sia il metodo migliore, questo ci tengo a dirlo. Ognuno ha il suo credo però certamente il biologico è chiamato in questo momento che stiamo vivendo a fare da gregario al territorio per riportare diciamo sintonia l'agricoltura con l'ambiente ma anche con tutta la comunità quindi anche per il turismo. Volemmo lavorare proprio a 360 gradi e come ho detto ripeto a sistema e il biologico farà da gregario. Ed ora andiamo a vedere cosa succede per quanto riguarda lo sport locale. Finalmente tutti i negativi al Covid-19 i membri del gruppo squadra della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, una situazione che si è normalizzata grazie a un monitoraggio medico per il quale la VL s'avvale della proficua alleanza con i laboratori Biolab. Una partnership che è stata presentata oggi in conferenza stampa alla Vitri Friguarena. Per quel che riguarda il Covid-19 il protocollo della federazione per il campionato professionistico richiede un tampone, l'effettuazione di un tampone non prima di 48 ore dall'inizio della gara, della partita, proprio per evitare che uno abbia possibilità di contagio nei giorni successivi, per tutto il team squadra. Dopo c'è tutta la gestione dei positivi, è avvenuto un momento in cui prima c'è stato un positivo, poi altri siamo arrivati a 5 positivi, in cui c'è da gestire l'isolamento, la sintomatologia, quindi anche da un punto di vista clinico il medico deve seguire la situazione, la possibile calcolare i tempi per rifare i test, per vedere quando si negativizzano e anche da un punto di vista della gestione sia con la Lega, per quel che riguarda l'aspetto sportivo, sia con l'ASUR di riferimento, con il Dipartimento di Prevenzione bisogna prendere degli accordi per la quarantena dei giocatori che sono negativi, che hanno un periodo che si è un programma di quarantena soft in cui devono restare obbligatoriamente solo all'interno della squadra, nella cosiddetta bolla, cioè andare o all'allenamento e basta, casa, allenamento, allenamento e casa, e ricontrollati per confermare l'eventuale negatività. Quelli positivi ovviamente devono stare in isolamento, rifare il tampone dopo 10 giorni, se è di nuovo positivo c'è altri 10 giorni di isolamento. Abbiamo in installazione proprio in questo momento una nuova linea produttiva che è in grado di dare la risposta ad un test molecolare in due ore, questo per la gestione dei casi di emergenza al di là dell'aspetto sportivo, dei casi di emergenza di salute del cittadino insomma, oppure la utilizzeremo per le situazioni dove l'analista ha delle ambiguità e ci sono, credetemi, la risposta non è sempre cristallina, subito, chiara, in alcuni casi abbiamo bisogno di approfondire prima di dare un risultato, le microbiologhe che ringrazio per come lavorano, prima di dare un risultato ci pensano e se delle volte hanno bisogno di togliersi un dubbio e ripetere un'analisi e non hanno tempi avevamo bisogno di una strumentazione che ce lo consentisse e comunque di dare un risultato in serenità in tempi stretti per cui abbiamo aggiunto questa terza linea di produzione. È una collaborazione che oggi la rendiamo ufficiale ma già è diverso tempo, diversi anni che il laboratorio analisi Biolab collabora con noi per tutto quello che riguarda gli aspetti medico di analisi delle club. A maggior ragione in questa fase, capite bene, che sono fondamentali e quindi abbiamo deciso di ufficializzare questo rapporto molto molto importante per la VL perché si fa delle prestazioni di un centro di laboratorio veramente all'avanguardia e molto molto professionale. quindi siamo orgogliosi di questo e li stiamo stressando molto perché chiaramente ogni settimana siamo con un bel gruppo di atleti e non solo per tutte le varie regole da rispettare in FIP per poter giocare le partite. Confermo ovviamente che questo rapporto è già stato iniziato anni fa quando dovevamo occuparci solo della salute dei giocatori. Adesso c'è il problema della pandemia e quindi tutte le analisi che facciamo chimico-cliniche sui giocatori, sullo staff, sono non solo legate allo stato di salute dei giocatori ma soprattutto alla diffusione della pandemia. I consigli dello chef ci accompagneranno fino a Natale, oggi è giovedì e come di consueto la parola a Daniele Patti. Buonasera al pubblico di Rossini TV, questa sera il ristorante Lo Scudiero ha preparato pacco, roburro, alici, polvere d'alici e tarassaco, un piatto che ricorda le mie origini siciliane quando appunto, come nei romanzi di Pirandello, si andava a leccar la sarda. Con quell'idea, con quel concetto abbiamo realizzato un piatto ricco di alici, ricco di mare, ricco di iodio, quindi abbiamo fatto delle alici che vengono marinate col succo di limone che vengono poi scolate e le andiamo a mantecare insieme a un burro prima a pomata, cioè un burro ammorbidito dove si vengono in sede le alici e le andiamo poi a frullare grazie all'aiuto di un macchinario che si chiama Paco Jet. E abbiamo fatto, con questo burro abbiamo ammantecato dei paccheri, abbiamo realizzato la polvere di alici e sopra abbiamo messo delle foglie di tarassaco, un'erba spontanea che cresce nei nostri prati per dare proprio questo contrasto di amaro, cioè la dolcezza del burro, lo iodio dell'alice e le foglie di tarassaco che danno appunto quello che è l'amaro al piatto. Quindi pacchero, burro, alici, polvere di alici e tarassaco. Vi aspetto al ristorante Lo Scudiero per farvi assaggiare questo piatto ricco di mare. Il telegiornale è quasi finito, prima però voglio darvi alcune anticipazioni sulla nostra programmazione, partendo dalla prima serata di questa sera, una nuova puntata di Insieme a Canestro. Qui vedete gli ospiti che saranno presenti questa sera, il numero di telefono per poter mandare messaggi e whatsapp che verranno poi letti durante il programma. Quindi non perdetevi, Insieme a Canestro, alle 21.15. Domani torna una nuova puntata in diretta di Casa Rossini con Paolo Pagnini che accoglierà tanti, tantissimi ospiti in diretta TV e Facebook. Se volete fare delle videodetiche, se volete dedicare un messaggio a qualche vostro amico o caro potete utilizzare questo numero di cellulare 351 70 899 77 oppure scrivere a Casa Rossini Chiocciola Rossini TV.it, quindi ci vediamo domani in diretta alle ore 10.00. E domani è venerdì, torna il Vallefoglia Magazine alle 19.00, un approfondimento dedicato alla città di Vallefoglia che poi sarà seguito subito dopo perché alle 20 avremo la diretta con il sindaco Palmiro Ucchielli. Quindi collegatevi in diretta alle ore 20.00 su Rossini TV e questo è il numero per mandare i vostri messaggi o le domande che volete rivolgere appunto al sindaco Palmiro Ucchielli. Potete anche telefonare in diretta chiamando il numero della nostra redazione 0721 26337. E domenica 6.00 dicembre vi mostreremo alle ore 21.00 il racconto di questo evento il Future Day Pesaro Next Generation. Il replica lo potrete vedere anche lunedì 7.00 dicembre alle 14.30. Vi ricordiamo inoltre che ci sono dei piccoli variazioni di orario per quanto riguarda Buongiorno Rossini, la nostra rassegna stampa. La diretta rimane sempre alle 7.20.00. La prima replica però è anticipata alle 8.15.00, poi ci sarà un'altra replica alle 11.20.00, all'ora di pranzo alle 12.30 e alle 14.00 e poi la sera alle ore 18.00. E vi diamo anche informazioni per quanto riguarda il nostro telegiornale in diretta alle 19.40.00, le repliche le ritroverete alle 20.40.00 e alle 23.30 della stessa sera. Mentre il giorno seguente potrete rivedere il nostro telegiornale prima della rassegna stampa alle 6.45.00, all'ora di pranzo alle 13.15.00 e anche alle 14.45.00. Ho detto davvero tutto, io adesso vi lascio con il meteo e le previsioni per i prossimi giorni. Domani vi attende la rassegna stampa Buongiorno Rossini alle 7.20.00 con Daniele Sacchi. Buona serata. Buona serata.